Antonio arriverà da Modena felice da San Benedetto del Tronto, così come Andrea che dalle Marche scenderà a Viterbo, poi l'Avellino Club Roma che almeno per un giorno si sentirà a casa anche se in trasferta. Monterosi-Avellino più che una partita sarà un'occasione, quella dei tifosi irpini sparsi per l'Italia, di ritrovarsi al centro e tifare tutti insieme per i propri colori. Una maniera per ritrovarsi, festeggiare, unirsi e ricordare a tutti che l'Avellino non è solo una squadra di calcio, ma è attaccamento e senso di appartenenza. Ed allora per domenica ci si aspetta l'esodo bianco-verde con oltre 200 biglietti già venduti ed una carica che sarà increscendo. La trasferta vicina e il ricongiungimento con i tifosi che vivono fuori, l'orario, la domenica, le vacanze imminenti, favoriranno una bella giornata di sport che speriamo sia anche una bella giornata di calcio. L'Avellino a questo punto è chiamato a fare la propria parte. I tifosi hanno le urla arretrate della partita casalinga contro l'Andrea e faranno tutto il possibile per farsi sentire. I giocatori ovviamente dovranno fare il resto godendo dell'abbraccio e trasformandolo in agonismo e quindi in vittoria.